Con, ribadisco, l'impegno ad aprire i cantieri di un'opera pubblica fondamentale attesa da un secolo entro il 2024 abbiamo deciso di essere ancora più scrupolosi di quello che la legge ci avrebbe permesso la legge ci avrebbe permesso di tirare dritto e partire anche prima di aver fatto tutte le analisi ambientali, ecologiche che invece io personalmente ho chiesto di fare siccome gli italiani lo aspettano da un secolo dovrà durare nell'arco del tempo dedicare altri 3 o 4 mesi alle indagini ambientali e geologiche secondo me è cosa intelligente quindi nel 2024 l'obiettivo è che venga approvato dal CIPES e quindi il progetto definitivo venga bollinato e si aprono questi benedetti cantieri